Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Latorre e loro sono Marco Leotta e Gaetano La Delfa, siamo il team Surrounding. Oggi abbiamo presentato la nostra idea che consiste in una piattaforma B2B per servizi geolocalizzati, attorno al cui ecosistema girano delle attività commerciali, una comunità di sviluppatori e gli utenti. Quello che consente di fare Surrounding è creare un marketplace per dei servizi geolocalizzati in modo tale che gli utenti possano usufruire di questi servizi messi a disposizione da attività commerciali di vario genere attraverso una e una solida applicazione. Quello che ci differenzia dagli altri servizi è che servizi come Foursquare, Google Place offrono dei contenuti che sono geolocalizzati, come ad esempio il numero di telefono degli attivi dei ristoranti, l'indirizzo. Quello che possiamo fare noi è invece diverso, cioè possiamo offrire dei servizi come ad esempio la prenotazione del posto a tavola o la prenotazione dal menu direttamente da attraverso il nostro smartphone.